buonasera professore annini buonasera dietro la parola amore c'è di tutto lì si annidano le cose più diverse passioni innamoramenti progetti matrimoniali più diciamo così utilitaristici e la società ha sempre cercato un po di arginare certi eccessi per esempio combinanti matrimoni una volta era una cosa corrente si in effetti il romanticismo di massa diciamo così cioè l'idea che ci si sposa per amore o che ci si mette insieme si crea una coppia per amore è un'idea abbastanza recente appunto per la massa mentre invece l'élite l'avevano ben chiara fin dall'antichità ci sono chiaramente dei vantaggi che sono di natura sociale di natura economica per i matrimoni combinati che evitano gli sbandamenti ma certamente la passione l'amore potrebbe non essere il centro di queste coppie quando è lasciato alla piena libertà diciamo non è imbrigliato l'amore può portare nelle direzioni più diverse c'è una in particolare di cui si parla meno specialmente oggi una volta era un po più di moda è più l'amore romantico l'amore addirittura spirituale dove il sesso non conta anzi sembra quasi essere un contaminante parliamo per esempio dell'amore di dante per beatrice è quello che si chiama l'amore platonico quindi un amore del tutto basato su questa grande carica spirituale emotiva e che può essere il risultato di una educazione di una società che va molto in quella direzione qualche volta può essere l'effetto di una paura nei confronti del corpo nei confronti del sesso i scienziati hanno dimostrato che anche in queste condizioni ci possono essere delle basi biologiche infatti in queste passioni platoniche ci possono essere delle attivazioni delle aree dopaminergiche del nostro cervello cioè delle aree della ricompensa ecco rispetto all'amore platonico c'è anche l'opposto e sì è quello che noi sessologi chiamiamo l'amore plutonico cioè da plutone il dio il re degli inferi quindi una visione diciamo più terricola diabolica in qualche modo anche diabolica è il territorio del tessosterone in realtà questo ormone che governa la passione e la passione sessuale in realtà non solamente nel maschio ma anche nella donna sia un po l'impressione che l'amore platonico sia più femminile quell'altro plutonico è più maschile è così credo che sia proprio un luogo comune in realtà Dante che citava prima per come esempio di amore platonico è un maschio mentre invece invochiamo circe tutte le circi della storia dell'umanità per l'amore molto plutonico per l'appunto e questo nega per così dire questo luogo comune l'uomo usa e getta in questo caso assolutamente e c'è per fortuna anche una via di mezzo che è quella poi della routine quotidiana che ci riguarda tutti sì è quello che potremmo chiamare il giusto mezzo della felicità sessuale della felicità di coppia di tutti noi e quindi è quella poi che permette la società di continuare a fare il suo ruolo che è quella di allevare figli e di riprodurre la vita quando si parla di amore di sesso in tutte queste varianti e nel plutonico platonico ma tradimento gelosia amor si dimentica in fondo un fatto fondamentale della sessualità che riprodursi è la vita se noi smettessimo di riprodurci e quindi di fare sesso tutto scompare ma questo vale per gli uomini anche per le piante ma animali e si torna a un mondo che era quello dei miliardi di anni fa quando non c'era il sesso e c'era una riproduzione semplicemente per replicazione cioè si ritorna ai batteri ma certamente sarebbe anche un mondo estremamente noioso grazie grazie a voi